Rimaniamo in tema. Nella zona industriale di Iglesias, nell'area della ex Rokul, martedì sarà avviato ufficialmente il cantiere per la costruzione di una centrale termoelettrica a biomassa. Il progetto nasce dalla partnership tra una società specializzata e la cooperativa San Lorenzo. L'iniziativa è stata premiata al concorso di idee per il Sulcis. La centrale per la produzione di elettricità ed energia termica sarà alimentata da biomassa vergine a filiera corta. In altre parole, proveniente dalla manutenzione dei boschi sulcitani e dagli scarti agricoli. Non solo perché l'energia prodotta da questa centrale servirà per alimentare un secondo impianto per la produzione di materiali isolanti in fibra di legno per la bioedilizia.